Sindaco, facciamo il punto della situazione, un tragico accadimento che ha scosso l'Italia intera. È preoccupato per l'immagine che può uscire da questo evento della città di Pescara? Io sono preoccupato per la nostra società in generale, perché questo evento poteva accadere in qualsiasi città italiana dove due ragazzi di famiglie normali uccidono in maniera efferata un coetaneo tutti e tre minorenni e non è possibile morire in questo modo a 17 anni e quindi va alla sua famiglia, alla nonna Olga tutto il mio abbraccio più affettuoso e il mio cordoglio, ma non si può neanche uccidere così né a 17 anni né in età adulta. E se le famiglie da una parte hanno davanti agli occhi il muro dell'affetto e quindi non riescono a vedere i propri figli in maniera diversa da come se li immaginano e nessuno può immaginare che il figlio possa essere un potenziale assassino o possa compiere un delitto così efferato forse alle scuole bisogna dare più strumenti. È pazzesco leggere che il 40% dei giovani minorenni fa uso di droga almeno una volta all'anno. È una cosa che quelli della nostra età non riescono neanche a immaginarlo. Il 40% dei 15-19 anni? Dei 15-19 anni. È una cosa impensabile, è una cosa che fa a capponare la pelle. Quindi questa società deve ripensarsi, deve riflettere sulle fondamenta. È stato abbattuto il ferro di cavallo, però il problema non è stato risolto. Ma nessuno può pensare che il problema droga si risolva con la demolizione di un fabbricato che era però il fortino della criminalità. Ma questo episodio non esce da quel contesto. La cosa più preoccupante è che questo episodio esce da un contesto totalmente diverso. Però ci sono i parchi dove il fenomeno della droga è diffuso. Che cosa servirebbe? Bisognerebbe fare più attività di prevenzione? Ma la prevenzione in questa città avviene perché io sento le forze dell'ordine che ogni giorno agiscono, controllano, verificano. Però è anche vero che gli strumenti normativi non permettono un'attività pressante perché se uno spacciatore di fumo ha una dose personale che poi vende non è perseguibile. Quindi diventa una caccia di un ago in un pagliaio.